Musica Un nuovo affetto ha decimato nell'assenza e si presenta le soldi di stagione al comunale con un'altra brutta notizia. Scomparso il papà in nottata ai giocatori radici, la squadra onore e il proprio compagno con un minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio. Lo Spontriciolo arriva alle soldi di promozione con la coppia che ha fatto sognare nella passata stagione in prima categoria. Parliamo ovviamente di Brissigotti e Capriotti, prima volta assoluto in promozione, goe a sgarrare ed ecco dunque il racconto di un match atipico per certi versi vista la categoria, ma che racchiude belle trame offensive. La prima porta la combinazione Brissigotti e Tamburini con Isa, tempestivi in uscita. Lo stesso Tamburini servito sul lato destro d'attacco fa tutto bene perdendosi nell'atto concursivo, occasionissima sprecata dallo Spontriciolo. Gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi a questo calcio piazzato che chiama Isa all'intervento in corner, forse con una leggera deviazione da parte di un compagno di squadra. Il nuovo affetto è a replica con questa crogazia di Indelicato che chiama la respinta all'estremo Tani. Buon momento per i padroni di casa che nuovamente sbattono contro la porta difesa da Tani. Qui vediamo una conclusione di Muccioli, sono ribattuti in delicato, però si fa trovare in posizione di offside. L'equilibrio in campo viene spezzato poco dopo da calcio piazzato di Brissigotti, Tamburini trova di testa la deviazione vincente che batte l'incorpevole Isa per l'1-0 dei Pirati. La reazione di Nuova Fettia produce questa conclusione che trova pronto Tani. I padroni di casa a calcio piazzato non riescono a trovare il pareggio, con questa azione si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa previene il raddoppio ospite, Brissigotti fa tutto bene, il tiro viene toccato dal portiere di casa ma non trattenuto. 0-2 è morale alle stelle per i riccionesi. Lo spuntricciolo continua a produrre occasioni da rete, qui suporo occasionissima per i tris. L'assist di Cugnini in direzione Capriotti è da Cineteca, un po' meno l'atto finale del numero 9 che spedisce incredibilmente al lato. La punizione è Mohamed, Scaldi Guantoni a Palumbo è entrato al posto di Isa nel corso della ripresa. Il Nuova Fettia tenta il tutto per tutto ma i padroni di casa che oggi inauguravano la nuova maglia trovano super tanni sulla propria strada. In altre occasioni non finalizzano nei migliori dei modi come del resto indelicato che calcia le stelle uno dei pochi palloni ricevuti. Vedere ancora per credere quando tanni per l'ennesima volta nega il gol ai padroni di casa. E su finire con gli schemi saltati, Muccio li stoppa così l'attacco avversario. Venendo considerato ultimo uomo dal direttore di gara, riceve pertanto il cartellino rosso. Della conseguente punizione c'è un incarico a Brissigotti. Palla ribattuta Sipidi Bianco che viene stoppato così in corner. Dal relativo tiro della bandierina nasce il terzo gol firmato proprio da Bianco che mette i titoli di coda al match per una vittoria ospite che salta le soldi in promozione dei Pirati ma che spinge Nuova Fettia a finalizzare le occasioni create sperando nelle prossime gare.